ciao a tutti ho pensato a qualcosa per la cucina qualche tempo fa già avevo fatto un video per una presina a forma di di girasole questa invece non è una presina secondo me ma più che altro è un sottopentola perché perché questi e pedali così in in 3d praticamente rimane rimanendo alzati per proteggono di più il tavolo ma se voglio volete usare come presina siete le padrone e dicevo anche quando dopo alla fine del video che se magari vi va di farlo ancora più grande il petalo lo potete fare senza problemi anche anche se non volete questo verde intorno potete anche non metterlo e io lascio sempre spazio all'immaginazione e la creatività di tutti allora cosa serve ho utilizzato questi filati agrilici che costano un euro mi sembra più non più non di più nel colore di marrone verde e un giallo arancio non è proprio giallo e non è neanche arancio un giallo arancio l'uncinetto è il 4 e ho utilizzato il 5 per fare questo qua l'anellino per poterlo appendere tutto qui ovviamente anche una coda lana per mettere a posto le godine e le forbici non c'è altro la cosa che invece pensavo mentre lavoravo è che è dato che bisogna contare perché io questa qui è formata poi vedrete da quattro maglie basse e un punto insomma bisogna contare bisogna contare quindi la mente è occupata quindi questo lo consiglio a chi magari sta vivendo un momento di stress è l'ideale per non pensare ok spero che sia di vostro gradimento e soprattutto che sia utile per la cucina e se non ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella in maniera tale che potete essere aggiornati più velocemente sul caricamento di altri video un saluto a tutti baci allora iniziamo questo sonto pentola uncinetto e uncinetto certo che uncinetto allora facciamo un cerchio magico in questa maniera scusate facciamo un cerchio magico e all'interno di questo cerchio magico andremo a lavorare una catenella e 6 maglie basse quindi una sarebbero praticamente in tutto 7 1 2 3 4 5 6 e 7 andiamo a chiudere allora io ho già spiegato come si fa il cerchio perfetto quindi in fondo questo sotto dove metto le spiegazioni di la lana eccetera metterò anche il link dove troverete il cerchio perfetto che lo spiego proprio passo passo magari se questo è scuro può darsi che non riusciate a vedere bene allora adesso noi dovremmo andare a lavorare due maglie all'interno di ogni secondo di una di queste sette maglie quindi alla fine dovrebbero essere 14 quindi qui una e due una e due quindi finiamo il giro e alla fine dovremmo avere 14 maglie ora andiamo a fare il secondo giro il terzo giro scusate nel terzo giro allora che facciamo una catenella e subito nella stessa maglia andiamo a fare un aumento poi faremo una maglia e ancora un aumento quindi dobbiamo lavorare così una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento fino ad avere il giro e invece di avere 14 ne avremo più 7 quindi 7 14 avremo 21 maglie andiamo a fare il quarto giro il quarto giro sarà tre maglie quindi una due e tre tre maglie e un aumento uno e due ancora una qui si vede poco perché marone due e tre però se andate a seguire il mio tutorial 3 del cerchio perfetto vedrete che sarà facilissimo quindi dobbiamo fare tre maglie basse sotto sotto le sottostanti quindi una due e tre e poi facciamo una maglia in due maglie insieme che sarebbe l'aumento alla fine del giro dobbiamo avere 28 maglie 7 14 21 28 esatto 28 maglie siamo al 20 28 maglie abbiamo e abbiamo fatto il quarto giro dobbiamo fare ancora il quinto il sesto nel quinto giro facciamo degli aumenti un po così come vogliamo senza problemi e però dobbiamo arrivare a 35 maglie e nel sesto giro dobbiamo arrivare a 42 maglie quindi perché devono essere sempre multiplo di 7 quindi 7 14 21 28 35 42 quindi al sesto giro dovrebbero essere 42 maglie e non importa se fate prima due maglie una maglia ma basta che alla fine del giro sono 35 ok quindi io mi sento subito adesso qui ne faccio due ecco due tre quattro poi ne facciamo altri due cinque e 6 e continuiamo così 7 8 dobbiamo avere 35 maglie non importa dov'è che fate gli aumenti basta che li fate basta che alla fine abbiamo 35 maglie ecco qua abbiamo i nostri 42 punti bassi ora facciamo così una maglia e ogni 6 maglie quindi 1 2 3 4 5 e nella sesta facciamo l'aumento 1 e 2 alla fine del giro dobbiamo avere 48 maglie dobbiamo avere 48 maglie quindi sempre 7 ne abbiamo aumentate quindi continuiamo 1 2 3 4 5 e qui aumentiamo alla fine del giro oltre ad avere 48 maglie dobbiamo finire anche con un aumento quindi qui fare qui scusate qua ci sarà un aumento perché abbiamo cominciato con la maglia singola quindi cominciamo continuiamo così e poi dopo passeremo ai petali cambiando anche colore assicuratevi che siano 48 le maglie e adesso andiamo a cambiare colore allora ovviamente ho scelto questo qui che in effetti non è né un arancione o non giallo ma è un bel punto mi piace molto allora ci inseriremo in questa qui dove abbiamo fatto la nostra maglia bassissima no scusate questa facciamo sempre come di solito il nostro punto il doppio per poter non perdere poi le codine e andiamo a fare una queste sono 1 e 2 3 4 5 6 7 8 e 9 catenelle e poi faremo subito nella maglia successiva cioè qui faremo un punto basso e ancora nell'altra maglia successiva un altro punto basso di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 continuiamo così tutto il giro tutto il giro ecco qua a intravedere il nostro girasole allora adesso come continuiamo continuiamo in questa maniera andiamo subito nella prima maglia quindi ne avremo 1 2 3 4 1 2 3 e allora 1 2 3 4 la quinta 1 2 3 e 4 esatto allora andiamo subito allora andiamo subito nella nostra prima maglia e facciamo una maglia bassa poi nella seconda faremo la seconda maglia bassa poi faremo la terza e la quarta maglia bassa nella maglia bassa nella maglia centrale che sarebbe la quinta nella quinta maglia centrale qui faremo tre maglie una maglia bassa una maglia bassa e 3 ancora qui faremo una maglia bassa una maglia bassa una maglia bassa e nell'ultima facciamo una maglia bassa quindi dobbiamo fare questa cosa facciamo quattro maglie basse tre maglie basse insieme nella stessa catenella e quattro maglie basse e così andiamo da una parte all'altra non dobbiamo fare assolutamente niente in questi due punti quindi continuiamo così per tutto il giro allora ho finito di fare tutto il giro nell'ultimo punto che ho fatto metterò un segnetto e andremo adesso a fare il secondo giro di maglie basse per essere precisi dunque nella terza nella terza maglia quella centrale no ne abbiamo fatti tre una due tre nella terza qui dovremo fare ancora tre catenelle invece poi contiamo uno due tre e quattro quindi queste due maglie questa e questa le saltiamo e andiamo direttamente qua e facciamo una maglia bassa una due e siamo nella prima maglia delle tre maglie centrali sottostanti adesso nella seconda faremo tre maglie basse una due due e tre e quattro di nuovo quattro maglie basse una due tre e quattro dunque tre e quattro l'ultima praticamente non la lavoriamo mai e non lavoriamo neanche la prima se non siete sicuri di dove andare a mettere vedete questa e questa di dove andare a mettere l'uncinetto andate sempre a prendere la quella centrale e contate una due tre e quattro quindi l'uncinetto lo andiamo a prendere mettere qui uno perché le tre maglie insieme devono stare perfettamente al centro della maglia delle tre sottostanti spero che mi sono spiegata bene questa qui quindi uno due due e tre ecco perché ho messo il segno qui perché vuol dire che in questa non dobbiamo ad arrivare quindi le quattro maglie che faremo arriveremo fino qua e non qua quindi continuiamo così per tutto questo secondo giro di maglie basse tre e quattro ecco qui continuiamo già che si comincia a vedere un po' i petali ok allora come dicevamo vedete qui avevo messo il segno infatti sono arrivata alla maglia prima qui c'era il segno e questa è la maglia adesso sposto il segno lo metto qua e nella stessa maniera come abbiamo fatto questo secondo giro di maglie basse faremo il terzo quindi andremo a vedere qual è la maglia centrale che è questa una due tre quattro ma invece di mettere così come abbiamo fatto adesso faremo così quindi uno due tre e quattro quindi prenderemo la maglia nella parte dietro così rimane questo segnetto che viene più carino e qui che siamo nella maglia centrale e qui che siamo nella maglia centrale ne faremo lo stesso una due e tre continuiamo una due due tre quattro questa è quella centrale quindi una due tre quattro io mi trovo bene a fare così perché così sono sicura di non sbagliarmi due due tre e quattro quindi continuiamo così per tutto il giro allora sono arrivata come abbiamo fatto per l'altro punto un altro giro scusate una maglia prima della del punto del fermapunti allora e mettiamo quindi il fermapunti nell'ultima maglia adesso facciamo cambiamo uncinetto io stavo usando un quattro di solito io con questa maglia acrilica uso il cinque però ho preferito usare il quattro in maniera tale che il lavoro venisse più compatto quindi voi scegliete l'uncinetto come dico sempre fate una prova vedete quello che vi piace più la lavorazione vi piace di più adesso dobbiamo fare il l'appendino quindi ho cambiato uncinetto in maniera tale che viene le maglie qui un pochino più lente e la lavorazione successiva sarà più semplice quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci io dieci mi sembra più che sufficiente anche perché poi questo quando lo attaccare si allunga un po' quindi per me dieci va benissimo andiamo nel qui allora uno e due saltiamo e qui mettiamo però io farei una cosa no scusate farei una cosa per farlo venire meglio andrei proprio qui ecco a fare una maglia e uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e poi una una maglia bassissima proprio qui ecco praticamente nelle maglie che non abbiamo mai lavorato adesso giriamo il lavoro e adesso o lavorate all'interno scusate cambiamo un cinto o lavorate all'interno della delle catenelle fatte e con una maglia bassissima oppure io preferisco fare i dieci punti in questa maniera uno due tre quattro quattro per farlo così non era necessario cambiare l'uncinetto però questa è una scelta vostra cinque sei sette otto secondo me viene più cicciottello nove e dieci ma ce ne possiamo fare pure qualcuno in più undici dodici a questo punto andiamo da dove siamo partiti con una maglia bassissima e andiamo a tagliare il filo e praticamente avremmo finito di fare il fiore adesso faremo una rifinitura ecco qua questo potrebbe anche essere finito se volete voi eh se vi piace di questa grandezza ok come sottopentola è perfetto secondo me come presina un po' fastidioso ma come sottopentola va benissimo allora quindi adesso andremo a prendere l'altro filo e iniziamo dunque sempre la stessa lavorazione quindi uno due tre e quattro qui ecco e andiamo a fare prendiamone due in questa maniera sempre lavoriamo la costa ok quindi due tre quattro e siamo alla maglia centrale invece di farne tre ne faremo due ma faremo un pippiolino quindi portiamoci questa cotina quindi uno poi uno due tre infiliamo come si sa così ecco e chiudiamo con una maglia bassissima ecco e nello stesso spazio facciamo ancora una maglia bassa andiamo avanti andiamo avanti con uno due tre e quattro praticamente la lavorazione non è che è cambiata molto la lavorazione è la stessa l'unica cosa invece di fare tre maglie al centro faremo una maglia bassa tre catenelle che formeranno poi un pippiolino e una maglia bassa ancora quattro maglie basse e andremo avanti così quindi queste due le saltiamo e sono una due tre e quattro quindi dopo aver fatto i quattro questo centrale facciamo una maglia bassa uno due tre chiudiamo qui con una maglia bassissima e poi un'altra maglia bassa quindi continuiamo così tutto il giro fino alla fine e abbiamo finito però se voi lo volete fare un po' più grande magari fare qualche altro giro che magari vi serve come sottoventola un po' più grande fate qualche altro giro uno due quello che volete ok vi lascio grazie per aver partecipato al mio tutorial se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella così sarete aggiornati sui prossimi video che farò ciao a tutti grazie a tutti